Le criticità del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento sono state al centro di un incontro che si è svolto in municipio tra il sindaco Lillo Filetto e il commissario dell'ASP Gervasio Venuti. La questione pronto soccorso è stata frequentemente oggetto in passato di interventi del sindaco che aveva fatto risaltare come ad esempio a fronte di 24 medici previsti in pianta organica ce ne sono soltanto 9 in servizio. Idem per quanto riguarda il personale infermieristico di cui solo 30 prestano servizio a fronte delle 50 unità previste. Altri aspetti messi in evidenza dal sindaco, i lunghi turni di attesa dei pazienti, i problemi di casermaggio, lenzuola e barelle. Il commissario Venuti ha anticipato al sindaco il piano di potenziamento del pronto soccorso del San Giovanni di Dio con i nuovi interventi previsti a breve per il miglioramento del servizio. Ai primi di ottobre entrerà in funzione il nuovo pronto soccorso e già sono state avviate le procedure di assunzione di dirigenti medici sulla base della vecchia pianta organica confermata dalla nuova. Alcune novità riguarderanno gli utenti. I pazienti che chiederanno l'accesso alla struttura al momento del triage verranno dotati di un braccialetto identificativo. I cosiddetti codici bianchi verranno incanalati verso una nuova postazione dove opereranno medici dedicati esclusivamente ai casi meno gravi, alleggerendo così la pressione sulle emergenze. Inoltre verrà limitato l'accesso ad un solo accompagnatore per paziente, anche lui dotato di badge identificativo. Il sindaco Filetto al termine dell'incontro ha dichiarato confido nella serietà e competenza di Gervasio Venuti, già ampiamente dimostrata in precedenti incarichi. Agrigento rivendica un pronto soccorso efficiente, oggi non all'altezza del bacino di domanda. Sullo stesso argomento, Gero Acquisto e Fabrizio Danile della Will di Agrigento hanno incontrato il commissario Venuti. I due sindacalisti hanno rimarcato al commissario, dopo l'estate calda, del pronto soccorso del San Giovanni di Dio e non solo, a causa della carenza dei medici, di avere contezza della situazione a oggi e dei tempi di immissione e ruolo del personale medico per coprire i buchi nei reparti. È venuto fuori dalle parole del commissario che è già stato approvato l'atto aziendale, dicono Acquisto e Danile si è dato avvio all'iter occupazionale attraverso la copertura dei posti vacanti in dotazione organica. Si è avviato l'iter di scorrimento delle graduatorie di concorsi pregressi e si darà priorità assoluta all'area di emergenza. Saranno assunti dall'Asp in tutta la provincia 12 medici che tamponeranno i vuoti nei pronto soccorso con canicattia Agrigento, nettamente sottodimensionati dalle dotazioni organiche approvate. Saranno assunti anche quattro cardiologi che saranno contratualizzati attraverso lo scorrimento di precedenti graduatori di concorsi. Per efficientare il servizio il commissario vuole riorganizzare e potenziare i punti di primo intervento, i medici del territorio, per esempio le guardie mediche e il triage per creare un prefiltro dei codici bianchi ed evitare intasamenti accessi impropri degli utenti che ingolfano il pronto soccorso.